Qualche anno fa guidavo il treno Ecco non più l'uomo sulla tratta ancora a Palermo Nella sosta di Priverno scesi a controllare Freno d'emergenza e lo trovai davanti Mi scusi, disse, è lei che porta questo treno Mi sono sempre domandato se è un manubrio o un volante L'accessorio mi consente di condurre questo bisonte Mi dispone un po' seccato ma con molta cortesia Soddisfatto in apparenza, se ne andò via Poco dopo all'improvviso me lo ritrovai davanti Approntarmi una pistola nella sala dei comandi Avanzando la richiesta di svoltare tutto a destra Interdetto non risposi mentre Fioca un po' di luce Traversava il lucernaio Come posso andare a destra rimanendo sul binario? Grazie 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 Grazie